Ciao ragazzi, qui Alex, bentornati sul mio canale ed eccomi qui con un nuovo vlog ragazzi Intanto un bel po' l'incenso per la mia nuova maglietta che è epica E ragazzi in questo brevissimo vlog voglio tutto il vostro sostegno per una cosa epica che farò ragazzi Comprerò infatti Grand Theft Auto GTA San Andreas su PS4 E raga direi che possiamo fare anche una serie, ritornare ai vecchi tempi Fare video sui misteri, fare video su cazzeggio, qualunque cosa Perché San Andreas secondo me è il miglior GTA di sempre E raga però voglio il vostro sostegno perché non farò la serie se non diventate attivi Ma non solo in San Andreas, anche in tutte le altre serie del mio canale ragazzi Perché non voglio iscritti inattivi raga Voglio anche la vostra collaborazione in modo che non diventi una noia Perché ragazzi se collaborate tutti diventa una figata e diciamo che è più divertente ragazzi Per me e anche per voi Quindi ragazzi scrivetemi qua sotto, intanto dobbiamo raggiungere almeno i 20 mi piace Ragazzi i 20 mi piace, porca puttana siamo in 250 quasi Ci facciamo raggiungere i 20 mi piace Minimo 20 mi piace ragazzi e commentate cosa ne pensate E raga vi porterò San Andreas su PS4 nel canale Una serie allucinante sul mio canale Non so proprio torno ai vecchi tempi ragazzi Vi farò vedere i misteri, cercheremo i misteri Faremo video cazzeggio Inseguimenti con la pop Ragazzi ci scialeremo in una maniera incredibile Cioè scialeremo, tradotto, ci diverteremo in una maniera incredibile Quindi fatemi sapere ragazzi Almeno 20 mi piace sotto questo video E commentate Ricordo Ma se la porto due ore in un po' dovete essere attivi come si deve ragazzi In tutte le serie, in tutti i video che farò Mi raccomando ragazzi E vi porterò GTA San Andreas sul canale Mi raccomando ragazzi Se vi è piaciuto lasciate un bel like, scrivetevi, commentate Ragazzi ci vediamo in un prossimo video Sarà San Andreas Ripete da voi Bella raga